pogliani sesso san giovanni con gloria video dedicato agli scooter le moto ve l'abbiamo fatta vedere un altro video sono una marea ma sono tantissime anche gli scooter e uno più bello dell'altro pronti facevamo notte a fare tutto insieme forza 750 versione travel quindi con le borse il tris borse è un gennaio 21 23 mila chilometri 9 mila euro xadv 750 dct quindi col cambio sequenziale automatico è un giugno 2020 22 mila chilometri siamo a 9 mila euro bmw c400 gt abs è un maggio 24 228 chilometri esatto nuovissimo ha già il bauletto incluso bmw come si vede e siamo 8.500 euro burman 400 abs è un marzo 2024 760 chilometri alle manopole riscaldate aggiunte siamo a 6.800 euro adv 350 ds è un gennaio 24 3650 chilometri bauletto incluso siamo a 6.300 euro onda sh 350 è un maggio 21 6.800 chilometri anche qui bauletto incluso siamo a 4500 euro 4.700 hai detto 4.500 era già incluso il passaggio si tratterà va bene quadro cuder 400 febbraio 2019 a 12.000 chilometri anche lui bauletto incluso ricordiamo che il quattro ruote guidabile con la patente b quindi non si ha necessità di avere patente moto e si può andare in tangenziale autostrada e vie preferenziali perché hanno modificato chiamiamo la legge o comunque sia adesso si può circolare in questo caso siamo a 5.000 euro stesso ragionamento ragionamento per i siti 300 abs è un aprile 22 800 chilometri anche lui bauletto incluso siamo a 7.000 euro le vespette gts 300 abs è un giugno 2023 1600 chilometri 6.100 euro gts super abs maggio 23 è 1300 chilometri 6.200 euro gts super tech 300 è un giugno 2024 in questo caso come anche nella rossa cupolino e porta pacchi posteriori inclusi 490 chilometri siamo a 6.600 euro beverly 400 s è un maggio 2023 5.000 chilometri 5.500 euro beverly 300 hp e quindi versione semplicemente cambia la cilindrata è un ottobre del 2021 8.500 chilometri siamo a 3.800 euro chimco x town 300 abs maggio 2023 7.000 chilometri 4.200 euro burman 200 è un luglio 2021 5.400 chilometri schienalino passeggero incluso e siamo a 3.500 euro medley 125 abs un luglio 2017 8.900 chilometri 8.900 chilometri bauletto incluso 2.500 euro medley 150 in questo caso è un luglio 2020 14.000 euro parabrezza e bauletto inclusi 3.300 euro sim mamba 160 è un gennaio 24 890 euro si ciao 890 chilometri 3.400 euro che strano che la colorazione è molto strana la vedi qui è grigia la vedi qua è violettina poi diventa un po sul verdino azzurro questa aerodinamica da moto gp è molto carina sì 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 ultimo ma non per importanza chimco agility r16 plus 125 a un aprile 2023 6.000 chilometri 2.000 euro fantastico un sacco di opportunità anche per gli scooter voglio ricordare garanzia volendo garanzia assolutamente garanzia come dicevamo nell'altro video quindi guardate noi ci appoggiamo esatto a una società esterna per quanto riguarda le garanzie si chiama move che appunto è una garanzia europea quindi ovunque vi troviate va diciamo a risolvervi il problema e diamo appunto la garanzia per un anno in tutti i veicoli del usati che noi vendiamo chiaramente esclusi quelli che hanno ancora garanzia di casa madre quindi anche non fosse più in garanzia ufficiale avete comunque siete garantiti per 12 mesi o anche più perché comunque si può anche estendere eventualmente quindi quello si può fare tutto quello che vedete quello che c'è ad oggi ogni giorno arriva arrivano e escono veicoli quindi la cosa essenziale perché è bello vedere questa marea di mezzi usati stupendo quindi guardate il sito e vedete è sempre aggiornato al giornalmente quindi assolutamente guardare il sito è la cosa sicuramente migliore per vedere le novità o i mezzi usciti e poi fare un salto a trovarvi e poi chiaramente venire qua anche perché almeno potete toccare con mano tutti i mezzi che abbiamo qui grazie gloria ci vediamo alla prossima ciao ciao